Allora datemi un modo per iniziare questo bellissimo video Cagandoci in mano Allora ragazzi siete pronti per il nascondino super mega epico di minecraft Secondo me ragazzi siete pronti Allora signora grigio visto che lei ci ha portato in questo posto Mi dica un po' che cosa dobbiamo fare Allora sarà tipo un mega nascondino incredibile in una stanza gigante incredibile Beh bellissimo A domanda Allora vieni un secondo qua Non hai fatto ubriaca fefe Dico perché sembra un attimo Un po' così ma Un po' sì Ma 2 più 2 quanto fa Ok Allora io direi di iniziare Vediamo un po' che cosa dobbiamo fare Ragazzi chi inizia a cercare Io sono il circuitore del boccino d'oro Haider effect Ok vai Allora No penso che non dobbiamo premere questo button Ah guarda che c'è lì da lui Ok easy c'è lì da lui Ah beh Startiamo Startiamo? Vediamo un po' Vediamo un po' penso Allora fefe io direi di iniziare Qua c'è il pulsantino Secondo me dovremmo iniziare subito a premerlo Vai previ Qua vuole tu fefe Ok Dove sei il grigio Ok Qua dietro di te Allora mi raccomando Conta fino a 30 secondi E noi ci nascondiamo Vai vai Perfetto Alla Dai che dobbiamo subito muoverci E come finito di già No 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 bro Eh serio Stai contare Conta Comunque Deve essere molto grossa questa mappa Va beh è russa sta roba Ok È russa Poi in una roba strana Ah guarda guarda dove sono Ah no È una nuvola Canarino Ma attivo ma cosa sto facendo Sei però non degli dove siamo Sennò albero ci sente capisce Cento quattro Hai detto che sono in una Ecco Ah Eeeh 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 Tu l'hai detto Oh aspetta Lui è fitness Guarda dove sono Che cosa è? Fra me sono infilato Fra guarda dove sono Sono qua Un under might Via Perché Scappa 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 No no farò Tiratuna No 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 Ragazzi Non scussemo lissimo Dimmi Eeeh Mi è un po' passata Eeeh La brillaggine Bravo Buon applauso Eeeh Se vuoi guarda Le uso io Se vuoi C'è nel senso Mi viate questo Dove si è dentro No che figo Guarda black dove siamo No black ma siamo tipo introvabili credo dove sono aiuto 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 sono lì non sono lì ho fatto usci fuori dalla mappa o allora fefe mi ha distrutto complimenti infatti fefe si è preso un punto però adesso c'è grigio capito adesso vediamo ogni tanto mi viene un bella brillaggine però non hai visto come mi sono salvato scusa ma sei serio bravo però non mi prendi più non mi prende più neanche se vuole sono paccatissimo mi sono paccato non va bene poi trovarmi ma non mi fai uccidere mi sa black vedi se riesci tirarmi un pugno io non è così sei un infame non così mi è abbazzata di tutta la brillaggine ma ditemi dove siete non tirarmi un pugno che se non rompi un piccolo che c'è lo rompi se mi tiri un pugno non fallo non potrei farlo ti picchio ti picchio non ci provare dai il sistema di potere legale vi banno della vita è giù sono ancora qua ma ci lo vediamo i vazzoletti però non toglierli basso allora ti do un indizio sono nel vetro frate è diventato è diventato un grande lavoratore del vetro lui il grande bro è diventato un lavoratore dove sei fefe il grande giro il grande giro il grande giro guardami no non di lì di qua girati no torre indietro andò star dove c'è black la la vedi che eccomi mi vedi ciao vieni a prendere ti mangi che tu ho se vacca ti mangi che tu ho spacca no allora non puoi rompere il vetro se no rovini la mappa no non puoi non puoi no si 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 grande black sei un boss vai 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 il dio senti più il dio praticamente dai spavaci ci ho preso no mi ha preso un copricaccio guardalo guardalo che malavidoso guardalo guardalo come scappa questa grancelata ho visto con le scarpe di gomma no no mamma mia mamma mia spavacca spavacca seguendo infame mamma no era black dai ma sai perché pensavo fosse fefe che lo sta rigorrendo ok allora nel primo round ha vinto questo ubriacato di fefe però il secondo round adesso il seeker lo farà grizzo e poi nel manco lo farò io quindi secondo me secondo me io sono io ho fatto tutti ragazzi ma stai zitto ti distruggo adesso faccio il seeker io direi startiamola immediatamente io sono seeker adesso basta il tempo delle mele è giunto al termine vai ma c'è poi la pozzetta di invisibilità regà posso partire vai pure vai pure puoi partire benissimo puoi partire benissimo vai porca allora io cioè allora non vorrei dire però scusate non mi sembro più intelligente farsi vedere così cioè poi partire poi partire ma black guarda che io ti vedo c'hai piedini aspetta 30 secondi 30 secondi 30 secondi 30 secondi hai tirato una enderpelle o cosa non ne ho non ne ho non l'hai preso poverino come farai adesso ma poverino black il potere dell'amicizia black dove sei però non ti trovo più fra non ti trovo più non so per quale motivo cioè boh non so dove sei veramente allora però allora qua mi sembra di più perché è gigante sta mappa no cacchio cacchio boh non lo so fra non ne ho idea non ne ho completamente idea fra non lo so non si ho capito dove sei c'è una porta aperta dove cioè qua c'è tutta una situazione ma perché non ho super super jump è normale ehmina io ehmina io il potere dell'amicizia forse sono vivo forse non hai capito dove sono forse dove sei eh frate lo saprai appena magari un po' più sveglio dai perfetto dammi un piccolo indizio tu che ne ho bisogno allora facciamo una roba che ne ho bisogno allora visto che io ho un firework per vedere se siamo ma non lo dire ma lo vedo no 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 cioè letteralmente ma letteralmente stavi correndo in giro cioè quindi hai trovato Fefe di già sì è morto cacchio e allora rimango io qua sì allora questa non è una cosa che mi piace tanto e mi ha distrutto la camminata ma distrutto la camminata ok vediamo adesso oh va qua che bello va qua che bello interessante qua io mi sto prendendo un po' di interperline e mi prendo anche un paio di invisibilità allora qua ci abbiamo una bellissima spara con affilatezza livello 225 credo che faccia un po' male anche secondo me guarda ciao black ciao fratella un po' di questa spa allora no no vai 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 ti lascio 10 secondi 10 nascondiglio 8 7 6 5 4 3 2 1 adesso andiamo a vedere che cosa combina sai qual è il problema il mio non andava bene per niente allora la sto vedendo qualcuno ah non posso sarebbe su shift no 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 madonna che scarso che sai feffe no 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 dai no dai vieni qua vieni qua vieni qua no risfarmi mi black black risfarmi mi black uccidile fogli fanno soffrire ti prego lo faccio soffrire no black ha sofferto black è morto quindi no black no 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 dai 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 no no sì allora no no aspetta aspetta bastiano ok bastiano dai tanto non sentivo sto better dai trovami se sei un uomino che sono un uomino cioè tu stai usando dire che io non sono un uomino esatto adesso frate adesso ti cerco se mi stai guarda mi stai proprio vedendo si vediamo un po dove potrebbe essere il nostro caro amico grizzo non neanche neanche se capisce dove sono adesso sono realmente nascosto bene che non mi trovi poi la via di fuga hai la via di fuga tu pensavo fossi in questo punto no che ansia però sei stravitino sì però fai fai letteralmente detto sono qui vabbè sto cagando addosso è tipo vicinissimo mamma mia tipo vicinissimo è tipo vicinissimo ma dove in questo piano qua oppure a non te lo so dire io questo a non te lo ok che bastardo via qua vai via vai via vai via tantissimo mi sta seguendo l'infamone messi in seguimento dell'anno ma donna no via devi andare via grito ma poco svignartela in cinese parla più non parla più perché allora sei ancora molto lontano però ti stai avvicinando un casino proprio tanto black proprio tanto aspetta perché adesso mi è venuto il dubbio di una roba e allora grizzo quanti colori ha la struttura dove l'ho preso ho scappato mamma mia vai via vai via vai via oddio godossè no mamma mia bravo 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 ma te lo c'è io sono io ragazzi sono il nuovo michael maio questo ragazzo io sono incredibile che cosa volete sono incredibile ma che pretendete dal bleccone mamma mia ragazzi spiezzo in due è